è nata da un'esigenza mia personale che andando in bicicletta a livello amatoriale avevo sempre problemi con le selle con le creme quindi non ne trovavo e infine insieme a un socio poi che è un chimico farmaceutico ci siamo messi lì e l'abbiamo inventata e l'abbiamo prodotta prima per testarla e poi via via con amici colleghi che lavorano le squadre professionistiche siamo arrivati poi a decidere di commercializzare nasce con una semplice telefonata io non sapevo cosa fosse la commerciale cosa fosse il mondo diciamo chiedo di parlare con graziano e graziano via al telefono parliamo dieci minuti al telefono del più e del meno e allora decido la settimana dopo di montare macchina andare a conoscerlo e così è nata prima di tutto un'amicizia e poi uno splendido rapporto diciamo commerciale ciao Grazie per la visione!